Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 225 su GTA V. Oggi sono qua su GTA per proporvi la Taxi Drive Challenge, una sfida che ho visto da alcuni youtuber inglesi, bar americani, adesso dall'accento direi più americani. Che cosa consiste questa sfida? Consiste semplicemente nel chiamare un taxi, prenderlo come passeggero, mettergli fretta e fargli fare una strada non molto consona a un taxi. E si vedrà che ci sarà proprio da ridere, mi ha fatto sbellicare alcuni video di sit-assisti che sono un po' impediti. Oltretutto visto che hanno messo, hanno creato anche un sistema di nomination tra di loro che nominavano altri youtuber a fare la sfida eccetera eccetera. E per questo motivo io anche per sdebitarmi di una proposta che mi fece tempo fa, vorrei nominare Coridan, un youtuber abbastanza famoso, molto più famoso di me. Che mi chiese a suo tempo di fare dei video insieme su GTA, su LCPD First Response, ma come sapete io la flessibilità e il tempo non andiamo d'accordo. E per sdebitarmi vorrei nominarlo appunto a fare, perché provi anche lui a fare questa sfida e vediamo se ce la fa. Comunque adesso vi spiego brevemente prima di provarla, cosa si tratta, come si fa. Allora si tratta di partire con la mappa da questa zona qua, che in pratica si trova tra la funivia e una gara. Insomma qua c'è un molo, davanti a un molo dopo Paleto Bay. C'è questa stradina di montagna, arrivate qua, chiamate un taxi e dovete fare, col taxi dovete arrivare a questo punticino qua. Adesso mettiamo l'indicatorino, lo spostiamo, vedete attenzione a non metterlo troppo qua perché se no vi fai fare un'altra strada. Dovete fare in modo che arrivi, vi faccia questa strada qua praticamente impossibile per un taxi. E a questo punto una volta selezionato l'impostazione, useremo il telefono per chiamare il taxi. Eccoci qua, aspettate che ho sposto un po' la tastiera se no il rumore è troppo alto. Yes, one of your finest taxis! Ok, intanto che aspettiamo, vi dico già che questa sfida ha una percentuale di riuscita del 10%, quindi immaginate di voi quanto è probabile che io riesca a farla. Comunque, come ho detto, ho nominato Coridan perché oltre ad essere uno youtuber che stimo e mi piacciono un sacco i giochi che fa, ovvero Survival, quei giochi davvero belli. Perché io ho giocato, penso che sia il secondo gioco dopo Medieval, la mod a cui ho giocato di più, lui è un estimatore di tutti quei giochi, quindi non posso che stimarlo come youtuber. E poi lo stimo anche come persona, quindi mi fa piacere se lui accetterà la mia sfida. Comunque, eccoci qua, togliamo la musica di sto taxista untuoso, con i capelli molto untuosi. E partiamo! La seconda cosa dopo aver selezionato la mission, la destinazione, è mettergli fretta, eh già partiamo male, mettergli fretta con il tasto varia spazzatrice. Eccoci qua, attenzione, mi sembra una bella gita, attenzione qua ci sono anche degli escursionisti. Salve! Eh, watch it però, devi levarti. Attenzione, il nostro amico dei capelli untuosi lo vedo già in difficoltà, dopo il primo incidente già partiamo male. Forse è meglio se partiamo dall'altro lato della strada. Eh, dai, sorpassano, c'è una corsia intera. Suonagli! Suonagli, non posso suonargli! Dai, la gialla non parte bene. Dai, sorpassano, su a destra, bravo! 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 Attenzione, sembra aver preso questa corsa in taxi come un fottutissimo rally! Frena! Madonna che curva, con lì, che rally, rally! Mamma mia! Frena, frena, frena che questa è una cura, mi sembra stretta! Beh, sei andato un po' fuori strada, ma, va bene, dai. No, non è una driving town, non è una città, ma è una sala di montagna! Bravo, bella frena, bravo, bravo, frena. Occhio, è qua! Frena! Eh, fuck, lo dico io, fuck, ma ti sembra il caso? Oddio! Occhio, qua c'è un burrone, occhio, qua c'è un burrone! Frena, no! Bravo, bravo, dai, dai, che ce l'hai fatta! Dai, no! Perché fai, fai retromarcia! Frena! Cosa hai combinato? E adesso? E adesso magari gli diamo, dai, ancora un tentativo, magari. Gli diamo un tentativo? Ma dai, diamogli un tentativo. Ok, eccoci qui, è arrivato il taxi, prendiamolo al volo, mentre io stavo dialogando con questi due, che hanno idee poco razionali su di me, vorrebbero chiamare la polizia, quindi evitiamo di farla chiamare, se no... Eh, togli la musica. Oh, tu mi sei mai più responsabile con questi baffetti, io mi sembra più responsabile lui. Andiamo di nuovo lì. Mettiamogli fretta! Come on! Gira! Come on, gira! Vai, andiamo a farci questa bella scampagnata di nuovo, mi sembra... Questa volta è la volta giusta, secondo me, ce la faremo. Sono convinto che ce la faremo. Bisogna crederci. Dai, dai, vai, vai, rallenta, frena! Frena qua, se no ci ribaltiamo già qui. Uh! Orca troia! Ma sei pazzo? Ma hai ficato sotto? Ma... Ma questo è un po' fuori di melone questo, eh? Aff, gli abbiamo ficato sotto uno. Vabbè. Andiamo, gira, 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 bravo, ha girato, bravo. Tranquillo qui, frena, frena! Non c'è tutta questa fretta, non c'è questa impellenza... No! Retromarcia. No, ma perché fa retromarcia così? C'è un ro... C'è un sasso! Retro, dai! Sì, eh... Questo guida tu... Quando guida di sera poi... Immagina che le altre macchine siano delle navicelle spazzate. Dai che ce la fai! Vabbè, dai, piano piano ce l'abbiamo fatta. Non mi sento molto sicuro! Madonna, che... Sgommata! Che bloc! Frena qui, frena! Frena! Vabbè! 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 Oh madonna questo Direi che la Taxi Drive Challenge Madonna muore Volevo arrivare a destinazione E' fallita Non ce l'abbiamo fatta raggiungere la destinazione Siamo a malapena riusciti Non posso prendere questo taxi Madonna sto taxi ti prendo Col pugnale antico Muori Vabbè vediamo se Coridan riuscirà a fare meglio di me La mia è stata proprio un fallimento più totale Soprattutto sempre su questa curva Potete fare quasi impossibile Quindi vediamo se ce la farà lui Comunque da Devole è tutto Invito Coridan a farla Un saluto alla prossima Ciao ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti